Benvenuti al telegiornale nella lingua dei segni. A Procida crolla un pezzo di costone nel lato più orientale della Chiaiozza. L'area è interdetta ma sul posto si era recata una persona a passeggiare nonostante i divieti. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e la persona è stata identificata e deferita alla autorità giudiziaria. In prefettura Napoli si è tenuta una conferenza stampa per presentare i dati dell'attività di prevenzione antimafia del primo semestre del 2024. Attenzione particolare sulla regolarità delle attività di ricostruzione a Dischia. No al trenino davanti la sede del municipio di Forio in via Genovino. Così si esprime il consigliere di minoranza Vito Iacono che evidenzia una mancanza di sensibilità da parte dell'amministrazione comunale. Questa sera trasmetteremo le repliche della trasmissione L'Isola che non c'è. Alle 21.10 la puntata sui lavoratori stagionali del 21 marzo. A mezzanotte e dieci invece la puntata su Pasqua e la stagione che verrà del 4 aprile. È tutto, ci vediamo domani.